Ciao a tutti amici e amiche, ben ritrovati! Prima di andare avanti con i miei video, mi fermo un attimino in questo video per mostrarvi a titolo informativo tutti i materiali che uso per i miei lavoretti perché ho notato che a molti interessa magari i nuovi iscritti, via dicendo magari non avendo seguito fin dall'inizio i video, non sanno bene perché comunque non avendo fatto un video preciso in merito, magari è meglio farlo. Allora inizio subito, partiamo ovviamente, anzi praticamente solo, sulle colle diciamo poi se vi interessa altro io posso anche farne altri di questi tipo di video. Allora, le mie colle, sono partita inizialmente dalla colla vinilica e basta, no? Ed la mia colla vinilica preferita è sempre stata questa qua, la stella bianca perché in colla stoffa con stoffa, stoffa con carta e anche abbastanza quelle piccole cose tipo paillettes e cosa, non è una presa sicurissima però niente da dire insomma. Di fettuccio, ondula un pochino la carta, è molto bagnata come colla, no? Quindi questa è la mia prima colla. Una colla un po' più forte che ho scoperto dopo è l'aceto vinilica, questa qua ed è la flash bond che trovo abbastanza a buon prezzo. Ora non mi ricordo i prezzi ma vi linkerò tutti i prodotti che io trovo su Amazon in infobox quindi se riesco ve lo metto già sul video, se no, trovate tutto giù in infobox questo materiale che vi faccio vedere. Questa su Amazon la vinil la trovo in qualsiasi ipermercato, dove la trovo più conveniente la prendo, ma sempre questa qui o della marca Pritt, comunque più o meno sono uguali, sempre vinilica. L'altra colla che prendo è questa qua dai cinesini, quindi Prime, ma questa non la trovate in infobox ma la troverete da qualsiasi cinesino. È molto economica e la uso, partiamo da questa, comunque tornando all'aceto vinilica, la uso per cose più forti è quando voglio che la carta assolutamente non onduli, carta, cartone, tutto quanto, sia con stoffa, sia con carta con carta, non ondula, resta asciutta, quindi mi piace, a volte la uso per questo motivo, tipo anche per attaccare magari i pizzi su carta un pochino magari che tende a ondulare, io uso quella, ho risolto il problema, paillettes non ne parliamo, brillantini, attacca tutto. La colla questa qui dai cinesi la uso praticamente solo per fare il gesso bianco e il gesso clear and made, quello che ci facciamo noi autoprodotto. Flaconcini, mi chiedete spesso, questi flaconcini qui dove io trasferisco sia la stella bianca, la vinilica stella bianca, sia la flash bond, ops, queste qui ho preso un bel pacco su Amazon, eccolo qua, molto conveniente, ce n'è davvero un'infinità, io sono sempre ai soliti primi due. Si fora praticamente il beccuccio, si fora della grandezza che vogliamo, se lo vogliamo molto sottile, se lo vogliamo un po' più spesso, possiamo anche solo forarlo con un ago, quindi è molto preciso, no? E il tappuccio, a dispetto di quello che ho creduto inizialmente, chiude molto bene, quindi la colla non si secca, è uno, sempre in infobox. Quest'altro invece, ve lo linko in infobox perché l'ho trovato su Amazon, però io l'avevo preso dai cinesini, ed è veramente massima precisione e questa cosa che poi si è staccata chiude molto bene e la colla non si secca, però bisogna trattarla bene perché è silicone, quindi se andiamo a furare con l'ago dopo non so, non saprei più come chiuderla, quindi bisogna farci un po' attenzione. Vabbè, la Prit, questa qui, della cartoleria mi pare del Bennett forse, o giù di lì, non è un granché, non è un granché, lo dico sempre ad ogni video. Allora, visto che sono stata brevissima, vi mostro un altro pochino i materiali che uso, nel senso, ad esempio mi avete chiesto, ma dove hai trovato quella taglierina che usi da tavolo, così almeno lo sapete un po' tutti. Questa non è una taglierina speciale, era una taglierina che una volta era intera, si è rotta la base, praticamente ho provato a staccarla per vedere se riuscivo a usarla in questo modo, è venuta via bene, non si è rotta, quindi la utilizzo così di tanto in tanto, non saprei neanche però come sostituire questa lama, quindi la uso finché funzionerà, cioè, quindi, ok, questo righello avevo fatto l'unboxing, mi pare, comunque l'avevo preso anche questo su Amazon, se lo trovo ve lo linko, è quello che fa lo strappino alla carta frastagliato, ho visto molte ragazze farselo a autoprodotto con i righello in plastica, strappando via dei pezzettini e creando questa frastagliatura, quindi io non ci avevo pensato, ma facilissimo. Taglierina super economica, io l'avevo presa da Toga, ora Toga non so più, non ho più ben capito online come funziona, ma è della Mahè, è una taglierina economica, vi linko un facsimile alla mia, questa qua in Infobox, queste lame, ve l'avevo già detto, si trovano, sono compatibili un po' con tutte le taglierine, perché hanno bene o male questa apertura, le taglierine, no? Almeno questo tipo, e quindi va benissimo, cioè, quando si consumano è bellissimo trovarle così, economiche, un bel pacco pieno, quindi vi linko sia la taglierina, sia queste lamette qua, lame. I pennelli che uso per fare le sfumature, per fare gli stencil sono questi qui, che io tengo tutti in questo bicchiere, ho scritto sopra bene o male, io ho tre colori di Distress, parliamo di Distress, quindi ho scritto sopra con cosa le utilizzo, Vintage Photo, poi ci sono questi più piccolini, Vintage Photo, Mogano, allora, ok, anche questo era un bel pacco, e sono pennelli a setoline, che vanno molto molto bene per fare queste sfumature, ho trovato questo bel pacco, ovviamente sono da make up, era un bel pacco pieno, ora, vabbè, c'era anche il regalo questo qua, e io credo che non li utilizzerò mai tutti in tutta la vita, a meno che non li usi poi per truccarmi, ma la vedo dura, e anche questo ve lo metto in infobox, se vi interessasse, ok, ragazzi, era un video brevissimo per mostrarvi solo queste due cosette, proprio perché me le chiedete, quindi scusatemi, per chi le sa già, vi ringrazio di essere stati con me, vi mando un mondo di baci e tanta tanta positività, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!